Perfetto, allora ragazzi ci siamo, ci siamo per davvero, buon pomeriggio, benvenuti, 16.33 puntuali anche stavolta c'era l'esperienza online con PwC e quindi chi siamo noi per mancare in tanti, in tantissimi, quasi quasi 40, tanto aspettiamo che ci raggiunga anche qualcun altro, pronti per scoprire di più sull'Academy Risk questa bella opportunità in PwC che tra poco Marco, Giovanna e Margherita vi presenteranno e lo faranno nel modo in cui piace a noi, cioè facendo parlare un po' la vita di tutti i giorni in PwC e in modo particolare parlando di Risk e parlando di Risk Academy. Quindi a me piace dire sempre poca fuffa, tanta cosa, tante cose concrete, no? Fatti, ecco, poche parole perché ci saranno anche fatti, per fatti io intendo link che portano poi ad un'opportunità di carriera che è già bella programmata, qui potete soltanto candidarvi. Marco Salemi, HR Business Partner, buon pomeriggio, come stai? Sei carico? Ciao Giuseppe, carico, pronti a partire? Grazie innanzitutto a tutti per la presenza, insomma per l'interesse, grazie per questa opportunità che vuole essere insomma un po', vuole portarvi più vicino in generale al nostro mondo e poi appunto questa iniziativa di Academy che adesso andiamo a raccontare un po' più nel dettaglio, nello specifico, a contatto appunto con Margherita e Giovanna che rappresentano il nostro business, insomma la nostra attività consulenziale vera e propria, quindi andiamo a toccare poi un po' più con mano i loro rispettivi gruppi di riferimento che poi sono gli stessi su cui abbiamo organizzato questa iniziativa di Academy. Assolutamente sì, le hai menzionate, adesso le saluto, Giovanna Gialloreto, Strategy and Governance Director e Margherita Moro, Signor Manager Risk Private. Buon pomeriggio Giovanna, ciao Margherita. Buon pomeriggio a tutti. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, benvenuti anche a voi, grazie per essere qui, io altri dieci secondi me li prendo giusto per dirvi che ragazzi c'è sempre una chat a vostra disposizione, quindi mi raccomando riempitela perché poi quelle domande le leggiamo e cercate di portare a casa il massimo da questa diretta, quindi davvero sfruttate l'incontro con dei professionisti, non capita tutti i giorni, quindi mi raccomando prendete davvero il massimo da questa live. Marco, lascio a te la parola, so che apri tu le danze, condividi anche la presentazione che adesso noi vediamo. Esatto. Adesso anche a schermi te. Grazie, grazie Giuseppe. Allora, partiamo insomma con un breve recap di quello che andremo a fare oggi, direi. Adesso ci prendiamo qualche minuto proprio rapidissimo per una brevissima presentazione di PwC in generale, poi parlerà Margherita sul Race Private, uno dei due gruppi appunto su cui andremo a concentrarci oggi, e poi Giovanna per chiudere poi con un approfondimento direttamente sulle due iniziative di Academy che abbiamo in partenza il prossimo mese, e poi lasciamo spazio ovviamente a tutti voi ragazzi per eventuali dubbi, domande, curiosità di qualsiasi genere. Innanzitutto appunto benvenuti, partirei diciamo con qualche numero in generale su PwC, con questo slide che proponiamo tendenzialmente sempre in tutti gli incontri con ragazzi, studenti, in università, anche in fase di colloquio, insomma. Nella parte sinistra della slide vediamo poi i dati global di PwC, quindi una presenza massiccia in 152 paesi, un network globale che comprende e coinvolge più di 328 mila persone, collaboratori, lavoriamo con davvero tantissimi clienti di ogni genere, di ogni tipo di settore, mentre nella parte destra della slide possiamo vedere un approfondimento specifico sulla country appunto italiana. Nell'ultimo anno fiscale abbiamo inserito più di 2700 nuovi colleghi, siamo presenti su 27 città in Italia, abbiamo presenza capillare sul territorio nazionale, in Italia ormai abbiamo raggiunto ben più di 8 mila dipendenti, siamo circa 8600, ci stiamo dirigendo verso i 9 mila, l'età media, come potete vedere, è davvero molto molto giovane, fresca, un po' la caratteristica principale, mi soffermerei maggiormente del nostro ambiente, proprio l'età molto molto giovane, in realtà i 32 anni è un dato questo non aggiornato perché fa riferimento all'anno scorso, quindi alla fine del fiscal year 23, però l'età media si è abbassata ulteriormente, andiamo a sperare ormai poco più dei 30 anni. Un breve, una breve presentazione insomma anche sulla nostra organizzazione interna, quando si parla di consulenza mi rendo conto, perché mi ricordo anche io quando ero più giovane, approcciarsi a questo mondo dal semplice al semplice, non è mai facilissimo, nel senso che le informazioni sono tante e spesso sono anche dispersive. Noi abbiamo un'organizzazione interna in realtà molto strutturata per linee di servizio, le potete vedere insomma rappresentate un po' tutte, copriamo davvero uno spettro di servizi particolarmente ampio. Abbiamo l'area audit, che è quella insomma tradizionalmente legata alla revisione contabile, che un tempo rappresentava un po' il core business di questo tipo di società, ormai non lo è più diciamo in maniera esclusiva, proprio perché oltre alla parte di revisione contabile abbiamo un'organizzazione capillare anche sul mondo tax and legal, su tutta l'area di digital innovation e sull'area advisory, che comprende appunto tre diversi gruppi, transformation, deals, strategy and value creation. In buona sostanza la parte di advisory si occupa di tutta una serie di progetti di digitalizzazione, trasformazione, ottimizzazione dei processi di business. L'area di deals invece strategy ha un focus maggiore su progetti legati al mondo appunto strategico, M&A, due diligence. Mi concentrerei su questa slide in particolar modo sulla linea di servizio che ci riguarda più un po' più da vicino, ci tocca un po' più da vicino, che è quella di Other Trust Solutions, cui appunto appartengono i gruppi di riferimento di Margherita e Giovanna, siglata OTS. È la linea di servizio che appunto accorpa tanti gruppi legati tutti dal minimo comune denominatore del mondo trust, risk management, quindi della gestione del rischio, in sostanza 360 gradi. Una delle aree tra l'altro più giovani di PwC, nata nella fine 2021 a seguito di una riorganizzazione interna che appunto ha accorpato diversi gruppi, tutti accomunati da tematiche legate appunto alla gestione del rischio. All'interno di Other Trust Solutions in particolar modo troviamo appunto i due gruppi di Margherita e Giovanna, rispettivamente il Risk Private e Governance Processes Controls, siglato GPNC, che segue un'attività di Risk Manager rispettivamente sul mondo industriale e sul mondo invece dei servizi finanziari. A questo punto lascerei appunto la parola a Margherita per un primo approfondimento sul Risk Private. Eccoci, ciao a tutti, buongiorno a tutti. Io appunto come hanno già anticipato sono Margherita Moro, signor manager del gruppo Risk Private. Mi descrivo con tre termini per darvi un po' un'idea di chi sono e di come opero diciamo nella mia quotidianità. I tre termini che secondo me mi caratterizzano sono professionista, mamma e organizzata. Professionista perché tengo molto al mio lavoro, credo molto in quello in cui faccio. Io collaboro con PwC dal 2015, di fatto dopo una breve esperienza all'estero è stata la principale attività e collaborazione lavorativa che ho avuto a seguito di quella che è stata appunto la mia laurea in statistica e mi occupo prevalentemente di tutto quello che riguarda il sistema di controllo interno che è poi di fatto il concetto cardine che guida quelli che sono i servizi che va a offrire il gruppo con cui collaboro, che è appunto il gruppo Risk Private. Mamma perché ci tengo tanto a dirlo a una bimba di tre anni a cui sono molto affezionata e proprio anche oggi giorno in cui si parla tanto di work-life balance, ci tengo anche a passare questo messaggio insomma che per me è molto importante. Organizzata perché per essere una professionista, essere una mamma, in contemporanea ragazzi se non si è organizzati è un problema. Quindi organizzata sicuramente è una caratteristica fondamentale per sopravvivere alla quotidianità di tutti i giorni. Come vi ho anticipato il Risk Private di cosa si occupa? Si occupa di tutta una serie di servizi molto ampi che vanno a riguardare il sistema di controllo interno. Quindi tutto quel set di attività che supportano i nostri clienti nell'andare a strutturare, a riformulare, a rivedere un forte presidio a quello che è il rischio. Rischio inteso in termini di creazione appunto di quelli che sono un set di controlli o quelli che sono un set di attività che possono permettere a quelle che sono realtà dei nostri clienti di creare fiducia, fiducia verso l'esterno, fiducia verso i propri clienti, fiducia verso quelli che sono i portatori di interesse in generale, fiducia verso quelle che sono anche gli enti legislativi. Perché poi se si va a parlare di sistema di controllo interno spesso si va a parlare anche di quelle che sono attività di risposta a quelle che sono esigenze di compliance. Questa slide riporta tante tematiche, tanti ambiti di cui di fatto il mio gruppo si occupa. Io in particolare mi occupo di tutte quelle tematiche che vedete evidenziate nella slide in rosso che riguardano l'applicazione delle tecnologie emergenti o di quelle che sono attività di automazione o ottimizzazione tramite lo sfruttamento di queste nuove tecnologie al sistema di controllo interno. Come lo facciamo? Lo facciamo tramite progetti che in maniera più o meno pervasiva vanno a analizzare quello che è il sistema di controllo interno delle nostre realtà clienti e ad andare ad individuare quelli che sono spunti di efficientamento e spunti di applicabilità di queste nuove tecnologie. Ci sono poi, come vedete, altri ambiti che sono sempre a color raro di quelli che sono il supporto del sistema di controllo interno che noi facciamo all'interno del nostro gruppo che possono essere attività di progetto assurance piuttosto che attività di data analytics e continuous monitoring che sono comunque tutte tematiche che vanno a ruotare attorno a questo concetto di creazione della fiducia e di creazione di miglior presidio del rischio per i nostri clienti e a loro volta per i portatori di interesse verso i nostri clienti. Io passerei direttamente a illustrarvi un caso pratico, quindi proprio un'attività classica che noi svolgiamo presso più clienti e presso più realtà cliente. Quando andiamo a strutturare quella che noi chiamiamo una value proposition o comunque una linea di servizio, diciamo su cosa andiamo a lavorare? Andiamo a lavorare su quella che è l'esigenza del mercato, l'esigenza del nostro cliente in particolar modo questa specifica value proposition di cui vi racconterò nel breve si è andata a focalizzare su quella che era l'esigenza di andare ad aumentare le attività di controllo ottimizzando le risorse e questo perché? Perché la normativa cambia perché la realtà e il mercato cambiano e nel cambiare richiedono sempre più stringenti attività di verifica sempre più dispendiose in termini di tempo attività che devono essere appunto eseguite dalle aziende per rispondere a determinati requisiti o per garantire il mantenimento della propria fetta di mercato e la propria clientela Quali tecnologie vengono a supporto di questa esigenza insomma per andare a migliorare quella che è la copertura del rischio e l'ottimizzazione delle risorse disponibili? Tecnologie prevalentemente afferenti l'ambito della robotic process automation o del process workflow management ci sono vari vendor di fatto si tratta di software che vanno a ripetere quelle che sono attività time consuming quindi ripetitive altamente ripercorribili che devono essere eseguite pianificate con una frequenza molto stringente e che devono essere eseguite su volumi molto elevati di istanze e attività e che quindi vanno sostanzialmente ad aiutare le persone nel day by day l'utente nel day by day nello svolgere le proprie attività Queste tecnologie sono tecnologie molto potenti nel senso che da un lato sono semplici quindi ci permettono di andare a risolvere i problemi dei nostri clienti facilmente in breve non richiedono tempi di implementazione di anni ed anni ma richiedono tempi di implementazione di mesi dall'altra parte rendono felici gli utenti rendono felici in particolare quelle persone che devono andare quotidianamente ogni giorno a svolgere le attività e che spesso si sentono sole nel farlo o che spesso si sentono oberate nello svolgimento di task che sono ripetitivi ecco che questi software quindi vanno proprio a supportare l'attività quotidiana delle persone vanno a migliorare quello che è il sistema di controllo interno vedete nella slide si parla di migliore copertura del rischio diminuzione del rischio residuo questo perché? perché se le cose le attività le svolgo con il supporto di un software che è codificato che è studiato che è costruito in un determinato modo le posso svolgere meglio o piuttosto meglio ancora la persona che le deve svolgere le va a svolgere con diciamo un focus maggiore su quelle che sono le attività a maggior valore aggiunto i follow up finali che devono essere effettuati come verifiche partendo un po' da questi da questi concetti chiave quindi e da queste che sono poi esigenze che abbiamo rivisto sul mercato nella slide successiva abbiamo riportato quello che è un esempio pratico proprio di un cliente questo è un cliente molto grande che opera nell'ambito delle infrastrutture energetiche e che aveva proprio questa esigenza di andare a rendere più ripercorribili a rendere meno onerosi per il proprio personale tutte quelle che sono le attività di verifica sul controllo interno cosa abbiamo fatto quindi abbiamo scelto una piattaforma in questo caso è stata utilizzata una piattaforma che si chiama Wipat però di fatto ce ne sono molte sul mercato e con questa piattaforma abbiamo iniziato con una piccola prova un piccolo pilota abbiamo scelto dei casi semplici l'abbiamo provata l'abbiamo sponsorizzata all'interno dell'azienda e per sponsorizzata intendo veramente sponsorizzata abbiamo fatto dei video abbiamo fatto degli eventi proprio in sede in presenza per far vedere a quella che era appunto anche la leadership quello che poteva essere appunto l'effetto benefico di questa di questa soluzione e da lì siamo siamo sostanzialmente riusciti a a veicolare un ramp up del programma e quindi sostanzialmente ad ampliare quelle che sono appunto le attività di automazione che sono state che sono state svolte e portate e portate a termine una cosa molto interessante di questo esempio di questo specifico business case che vi sto rappresentando ragazzi è che il progetto è partito dal basso in questi casi in termini tecnici si dice che lo scouting quindi la scelta delle opportunità di automazione può essere fatta o top down o bottom up quindi top down arrivano diciamo dall'alto dalla leadership decidono che cosa deve essere automatizzato e noi lo automatizziamo in questo caso è stato fatto il contrario sono state ascoltate le persone quindi abbiamo fatto proprio un'attività di ascolto delle persone di raccolta delle esigenze di raccolta di quelli che erano i loro pain point le loro difficoltà quotidiane e da lì siamo partiti per andare a identificare tutte quelle che erano le ore uomo diciamo sprecate e canalizzarle in quelle che erano appunto delle attività codificabili tramite il software questo è un programma che è partito in sordina è partito dal basso appunto e che proprio grazie all'entusiasmo poi degli utenti è stato veicolato ed ha portato sostanzialmente a un'esplosione diciamo di quella che è l'attività voi nell'anzare adesso vedete rappresentati 49 bot in produzione 88 opportunità automatizzate siamo partiti da uno o due e di fatto questo è un programma che sta andando avanti da circa tre anni e che verosimilmente andrà avanti per altrettanti anni quindi ha davvero avuto molto molto successo e ha reso molto felici gli utenti nella slide successiva c'è un esempio pratico un esempio pratico che è corredato anche da un video il video rappresenta spero che riusciate a vederlo rappresenta proprio il software che abbiamo costruito quello che voi vedete adesso è l'IRP della società quindi è sostanzialmente il loro gestionale lo strumento che contiene tutti i loro dati contabili e quello che voi vedete lo schermo muoversi perché sostanzialmente il software sta facendo esattamente quello che l'utente faceva tutti i giorni quindi si log all'interno del loro IRP e va a interrogarlo va a selezionare una serie di informazioni va a fare una serie di scarichi di dati una serie di tabelle che vengono salvate e che poi vengono sostanzialmente riportate e raccolte all'interno di un documentale che è quello che voi vedete adesso tutto quello che voi vedete che sta sostanzialmente scorrendo all'interno dello schermo prima lo faceva la persona adesso lo fa la macchina lo fa un software quindi sostanzialmente non c'è più la persona che interviene nel fare queste attività la persona deve solamente accedere a un cruscotto che è un cruscotto di riepilogo di tutte quelle che sono le automazioni che sono state sostanzialmente predisposte per lui e una volta ha avuto accesso a questo cruscotto può sostanzialmente procedere con il lancio delle informazioni io Marco solo stopperai il video così faccio vedere ai ragazzi quello che era l'altro contenuto diciamo della slide quindi appunto avete visto vi ho raccontato già io a voce che cosa fa questo software che noi abbiamo costruito quali sono stati i benefici vedete sulla destra ci sono un po' di slider che danno l'idea effort previsto dall'operatore inizialmente era significativo adesso è diventato basso rischio residuale inizialmente significativo adesso è diventato basso quindi sostanzialmente abbiamo raggiunto una serie di benefici diretti tangibili perché di fatto sono benefici anche che si possono quantificare quindi non sono solamente diciamo aleatori ma sono quantificabili in tempo risparmiato in attività svolte meglio o con più precisione o con uno spettro più ampio e di fatto appunto abbiamo potuto ampliare quello che era un po' lo spettro delle attività questo era un focus su una piccola parte chiaramente poi questo pezzo diciamo questa piccola parte del video e del processo che noi abbiamo sviluppato va a interagire con una serie di altre soluzioni noi ora non abbiamo potuto neanche filmarle perché di fatto poi si andavano ad individuare una serie di dati che non potevano essere diciamo circolarizzati perché specifici del cliente però sono di fatto tutta una serie di soluzioni che se poi avete la curiosità e volete andare ad approfondire sono tecnologie low code quindi tecnologie semplici diciamo da sviluppare a basso effort in termini di implementazione e che di fatto stanno appunto spopolando all'interno di quello che è il parco tecnologico dei nostri clienti affiaccandosi anche a tecnologie che sicuramente avrete sentito nominare di intelligenza artificiale io non so su questo se non ci sono punti particolari passerei la parola a Giovanna poi per la sua parte ottimo grazie Margherita tanto qualche domanda è arrivata però se vuoi magari la recuperiamo aspettati perfetto grazie allora perfetto tocca a me invece introdurre le attività che vengono svolte nell'ambito del gruppo governance processes and controls e innanzitutto mi presento io sono Giovanna Gialoreto sono un director del gruppo governance processes and controls sono in PwC oramai da dieci anni da poco più di dieci anni prima di arrivare in consulenza ho lavorato per sette lunghi anni presso un'autorità di vigilanza da Consob e poi ho deciso di cambiare completamente settore rimanendo però fedele a quelle che sono le tematiche che comunque hanno contraddistinto dall'inizio nel mio percorso professionale e queste tematiche sono quelle dell'asset management e del wealth management e sono due aspetti che introducono un po' le caratteristiche no? le competenze le specialità del gruppo governance processes and controls è che è un gruppo che lavora principalmente su tematiche di internal governance processi e controlli ma che svolge servizi rivolti principalmente ad istituzioni finanziarie che operano appunto nel settore dell'asset management e del wealth management quindi quando parliamo di asset management ci riferiamo a intermediari quali società di gestione del risparmio fondi pensione family office e il settore del wealth management invece è un settore diciamo dell'ambito banking che serve di fatto grandi patrimoni attraverso lo svolgimento di servizi di investimento quali possono essere la consulenza in materia di investimento i servizi di gestione patrimoniale piuttosto che l'attività di trading altro settore coperto è quello del banking quindi banking inteso proprio come istituti creditizi e nell'ambito del settore banking operiamo principalmente su quelli che sono i processi del credito e poi l'altro l'altro settore è quello dell'insurance siamo un gruppo abbastanza numeroso qui vedete indicate 70 risorse ma nell'ultimo periodo siamo anche significativamente cresciuti e la nostra caratteristica è appunto quella di essere sicuramente molto focalizzati sulla conoscenza della normativa e dei processi di settore nonché del business proprio per questo motivo di fatto il nostro supporto viene erogato non solo quindi a favore di di player bancari o assicurativi o del settore dell'asset well management ma molto spesso forniamo anche supporto attraverso l'erogazione anche di corsi di formazione lavorando in collaborazione con le università e con le associazioni di categoria alcuni dei nostri professionisti hanno proprio per questo motivo hanno dei profili di carattere economico e giuridico ma non solo diciamo che principalmente le lauree di cui beneficiamo sono riconducibili a questi due ambiti ma diciamo è comunque un gruppo molto vasto ed eterogeneo soprattutto perché nell'ambito della nostra attività lavoriamo costantemente in maniera trasversale e a supporto anche di altri gruppi motivo per cui di fatto non limitiamo il percorso accademico solo a profili economici giuridici ma siamo aperti anche ad altri profili perché può essere molto facile e ricorrente la collaborazione con altri team quali possono essere team che fanno riferimento ad altre ad altre loss quale strategy end piuttosto che deals piuttosto che tls che la nostra associazione di avvocati e commercialisti per cui la possibilità di poterci di poter beneficiare anche di percorsi accademici diversi da quelli economici giuridici rappresenta sicuramente un plus per quanto riguarda i nostri servizi appunto vi ho già anticipato quali sono i settori coperti allora i nostri servizi sono abbastanza numerosi coprono come vi dicevo il mondo degli internal governance dei processi e dei controlli in particolar modo quando parliamo di internal governance e di processi di cosa ci occupiamo ci occupiamo di fatto di ridisegnare quello che è l'assetto organizzativo delle istituzioni finanziarie ma anche quindi interveniamo sui modelli di governance interveniamo anche sulla predisposizione o aggiornamento di quella che è la mission degli organi aziendali quali possono essere collegio sindacale piuttosto che consiglio di amministrazione comitati investimenti comitati finanziari comitati per le remunerazioni e le incentivazioni e in questo diciamo contesto lavoriamo anche alla predisposizione dei vari regolamenti nei quali appunto confluisce la declinazione di queste mission di queste caratteristiche sicuramente nell'ambito dell'internal governance e dei processi l'attività sicuramente di rilievo che noi svolgiamo è quella relativa alle istanze autorizzative quando nell'ambito dei servizi finanziari un qualsiasi diciamo soggetto decide di dar vita a un'istituzione finanziaria che quindi di fatto è regolata ed è vigilata in Italia da un organismo di vigilanza quale può essere la Consob e Banca d'Italia piuttosto che la Covip per il settore di fondi pensione o l'Ivas per il settore assicurativo occorre eseguire un preciso iter diciamo autorizzativo e poi tutti quelli che sono diciamo i vari step di costituzione dell'intermediario stesso quindi a partire dalla definizione del modello operativo organizzativo la normativa interna l'individuazione delle sedi l'individuazione anche del management l'individuazione anche di quella che è diciamo tutta tutta la componente che presta diciamo i servizi amministrativi i servizi operativi i servizi E.T. Quindi sicuramente e come poi vedremo anche nelle slide successive dove vi abbiamo riportato abbiamo voluto riportare proprio un caso di successo per PwC che riguarda proprio la costituzione di una banca noi appunto lavoriamo di fatto in progetti di questa di questa tipologia che come potete che come potete immaginare sono comunque attività fortemente regolamentate dove di fatto tutto il settore del financial services lavora si muove e si sviluppa seguendo quelli che sono precisi dettami normativi quindi il nostro gruppo è abituato ad essere sempre aggiornato sulle normative in vigore e anche quelle che sono delle normative che la cui evoluzione prospetticamente può generare ovviamente delle opportunità e anche delle modifiche di organizzative e di processo per i nostri clienti su questo progetto che abbiamo voluto presentarvi come come un po' un progetto per noi eh fondamentale strategico eh che ha visto la partecipazione di numerosi colleghi PwC qui parliamo di più di 40 quindi potete immaginare che eh il team eh sia stato un team cross services sicuramente e e con competenze multidisciplinari quindi non solo professionisti del gruppo governance processes e controls ci ha permesso di dar vita ad una ad una nuova banca eh di cui non facciamo il nome ma che se rispetto alla vostra alla vostra esperienza e guardandovi un po' intorno non è difficile da identificare e è stato un progetto che appunto ha messo ha richiesto tutte le nostre competenze in ambito struttura organizzativa modello operativo processi e procedure sistemi informativi definizione del catalogo prodotti con un'attività che eh ha riguardato diversi mesi di lavoro parliamo all'incirca di 15 mesi di lavoro perché il primo periodo è stato dedicato alla predisposizione dell'istanza autorizzativa nei confronti di Banca d'Italia una volta ottenuta abbiamo di fatto messo in piedi la banca con tutti diciamo gli aspetti necessari per potergli dare una dignità di banca peraltro di banca diciamo operante nel settore del well management perché operante proprio eh non solo nella gestione del risparmio della propria clientela ma eh banca che opera principalmente nell'erogazione dei servizi di investimento ehm tornando tornando alle qualche slide precedente eh oltre ai servizi di eh di internal governance e di processi l'altro tipo di attività che noi svolgiamo è quella di eh supporto alle funzioni aziendali di controllo eh principalmente la funzione interna l'audit e la funzione compliance il tipo di supporto che noi svolgiamo e sia di tipo metodologico cioè eh di fatto forniamo ehm a queste a queste funzioni di controllo la metodologia su cui eh poi dovranno operare sulla base della quale dovranno operare e quindi svolgere le proprie attività di controllo di verifica eh così come eh altro tipo di supporto che forniamo nei confronti delle funzioni aziendali di controllo è quello dei servizi in co-sourcing o in full outsourcing di fatto o forniamo un supporto a queste funzioni nell'ambito delle attività di verifica che loro svolgono per per l'intermediario presso cui operano durante l'anno oppure ehm diciamo è l'intermediario stesso che affida al nostro al a Pwc quindi al nostro gruppo eh le attività ehm riconducibili alla funzione di compliance e interna l'audit ehm svolgendole di fatto eh in assoluta autonomia e portandoci a casa anche la totale responsabilità dell'attività che andiamo a svolgere eh altro altro ambito su cui opera il gruppo governance governance processes controls e quello dell'assessment gap analysis e remediation legata all'evoluzione normative come vi dicevo prima tutto il settore del financial services è fortemente regolamentato eh noi ehm nella nostra quotidianità eh siamo diciamo chiamati essere eh sempre un po' sul pezzo no? Della delle normative di settore eh perché eh perché eh molte delle nostre progettualità staturiscono eh proprio da esigenze di adeguamento normativo quindi entra in vigore una nuova normativa e di fatto il nostro compito è quello di eh avere assoluta padronanza di quelli che sono i principi normativi racchiusi nella normativa e poi eh definire quelli che sono non solo gli impatti eh non solo le criticità ma anche gli sviluppi implementativi che sono necessari per essere completamente eh e totalmente compliant alle nuove previsioni normative eh seguiamo tra l'altro altri eh altre normative specifiche di settore eh in particolare tutta la normativa anche antiriciclaggio eh sulla normativa antiriciclaggio esistono dei professionisti dedicati per queste attività ehm e eh altra normativa è quella relativa alla diciamo all'attività di 231 che di fatto per chi non lo non lo conoscesse è di fatto un modello che la maggior parte degli intermediari ehm adotta eh proprio per mh diciamo avere un framework dei controlli e ehm e avere anche dei ehm diciamo delle sessioni di formazione su determinati ambiti eh molto più eh rilevanti rispetto diciamo a intermediari che non decidono di non adottare di non adottare questo questo modello ehm altro altro tema è quello relativo a eh i processi del credito quindi parlavamo prima del della competenza verticale sul settore banking quindi sugli istituti di credito ecco su in particolar modo su questi player eh siamo fortemente specializzati eh su eh sul credito quindi come operiamo sul credito operiamo attraverso il disegno e la revisione delle strategie del credito attraverso la definizione dei processi operativi l'analisi dei processi e degli strumenti quindi per mettere in evidenza eventuali gap eventuali deficit e suggerire eventuali azioni di miglioramento e eh interveniamo anche rispetto a tutto quello che è il il framework di monitoraggio e di controllo afferenti appunto all'area all'area creditizia e in tutto diciamo in tutta questa panoramica dei nostri servizi ecco ovviamente oltre a seguire pedissequamente quella che è l'evoluzione normativa che ci rende quindi un gruppo fortemente tecnico fortemente specialistico siamo anche molto attenti a quelle che sono l'evoluzione l'evoluzione dal punto di vista digitale per cui il mercato richiede sempre di più una diciamo l'adozione di processi di efficientamento e di semplificazione di tutti quelli che sono i presidi di controllo e anche i processi di business legati appunto anche all'entrata in vigore di nuove normative per rendere più efficiente tutte le attività e tutti i processi e quindi lavoriamo anche affinché tutti quelli che sono i processi tipici di un intermediario finanziario possano essere fortemente digitalizzati quindi non so soprattutto nel caso di attività di un boarding di un nuovo cliente quindi quando un cliente si presenta si presenta in una banca anche banalmente per per l'apertura di un conto corrente dove devono essere eseguiti tutta una serie di step di verifica del cliente che si ha di fronte in molte occasioni appunto noi noi aiutiamo le banche proprio a digitalizzare quei processi affinché siano siano molto più più spediti e più efficienti io non ho altro altro da aggiungere non so se se sono ci sono delle domande sul tema o se se vogliamo parlare tutti alla fine sì guarda sì scusami giuseppe scusami marco era giusto per dire sì giovanna innanzitutto grazie mille e unisco diciamo ciò che hai trattato tu e a quello che ha trattato margherita per dire poi a tutti i ragazzi che come sempre avete a disposizione la chat però se vi va potete anche alzare la mano e quindi questa opzione che trovate in basso su zoom come sto facendo io in questo istante così vi attiviamo l'audio e la domanda la fate direttamente voi a margherita o a giovanna quindi c'è anche questa opzione in più per partecipare in modo più attivo alla live marco torno a te sì sì grazie giuseppe grazie a margherita e giovanna inserito per l'introduzione chiudiamo e poi lasciamo spazio appunto a qualche vostra curiosità ragazzi se ne avete questa intro iniziale sui due gruppi appunto di riferimento risk private e gpc è funzionale a raccontarvi anche l'iniziativa di academy che abbiamo organizzato appunto su entrambi i team e che è in partenza a luglio insomma del prossimo mese tra un mesetto circa e la raccontiamo in questa slide molto sinteticamente su quelli che per quanto riguarda i vari step fondamentalmente su cui si articola l'iniziativa e noi prevediamo di fare una formazione appunto in aula di due o tre settimane a seconda dei casi mirata sui temi appunto di cui vi raccontavano prima Margherita e Giovanna e sui rispettivi appunto gruppi con lezioni frontali nella prima parte della giornata e lavori di gruppo quindi assignment case study su cui lavorare appunto in team con gli altri ragazzi che prenderanno parte dell'iniziativa nel pomeriggio come si struttura il processo di selezione per questo tipo di iniziativa attraverso colloquio HR individuali appunto di stampo prettamente conoscitivo motivazionali che stiamo svolgendo appunto in queste settimane abbiamo già avviato e che sono poi propedeutici all'inserimento all'interno appunto dell'aula formativa dopo il periodo di formazione quindi dopo la parte di formazione diciamo così teorica abbiamo deciso di combinare anche la parte ovviamente di training on the job quindi la formazione un po' più pratica quindi al termine della formazione in aula i ragazzi verranno pianificati a progetto quindi lavoreranno sostanzialmente come dei veri e propri consulenti sulle progettualità che vi raccontavano prima sia Margherita che Giovanna in affiancamento ovviamente a colleghi senior fino al termine dell'academy quindi al termine di tutta quanta l'iniziativa una volta concluso il percorso sia di formazione in aula che di training on the job prevediamo una valutazione tecnica finale possibilmente anche un colloquio tecnico appunto con i nostri colleghi direttamente del business per chiudere l'iniziativa e confermare appunto i ragazzi insomma che si mostreranno più meritevoli nel corso appunto dell'academy giusto per fare un approfondimento molto molto rapido appunto su entrambe le iniziative declinandole appunto nello specifico sui due gruppi di riferimento per quanto riguarda il risk private quindi il gruppo rappresentato oggi da Margherita noi prevediamo di organizzare un'aula composta da 10-12 ragazzi laureanti o neolaureati magistrali che abbiano appunto un background di studio preferibilmente in economia management o ingegneria gestionale ancora più preferibilmente con un taglio industrial quindi con un curriculum legato all'approfondimento sul mondo industriale o nello specifico sul mondo data analysis data analytics quale sarà la timeline dell'iniziativa facciamo appunto in questo caso due settimane di formazione full time in aula su Milano dopodiché dopo la pausa estiva classica del mese di agosto dove tutto si mette un po' in stand by on hold riprenderemo con la pianificazione a progetto di cui parlavamo prima nel periodo tra il 2 di settembre e il 15 di novembre quindi come detto sono più di due mesi effettivamente di training on the job in cui avrete la possibilità di lavorare come dei veri propri consulenti l'obiettivo è di andare in continuità con le esperienze di academy e quindi procedere con le assunzioni a contratto appunto dal giorno immediatamente successivo modalità di inserimento durante l'academy prevediamo uno stage chiaramente retribuito della durata appunto di 4 mesi che va a coprire di fatto tutta l'iniziativa quindi sia la parte di formazione in aula che quella di training on the job con l'obiettivo ovviamente di assumere poi un contratto a tempo indeterminato al termine dell'iniziativa l'academy avrà un focus sui principali temi di cui Margherita ha parlato prima quindi il focus sarà su tematiche di RPA artificial intelligence machine learning cloud computing quindi l'orientamento sarà prevalentemente orientato al mondo del digital e dell'IT risk quindi qui trovate nei vari bullet points fondamentalmente le tematiche che verranno affrontate in aula nelle due settimane di formazione quindi SAP i principali RP tutto il mondo del data analysis data visualization RPA artificial intelligence machine learning appunto poi i principali framework di controllo interno legati al mondo IT oltre poi un approfondimento sui temi digital quali GDPR e privacy con qualche pillola anche di cyber security il format dell'iniziativa è praticamente molto molto simile per non dire identica per quanto riguarda l'academy invece sul gruppo di che era attivata sul gruppo di Giovanna quindi GPC anche in questo caso prevediamo di costituire un'aula di 10-12 ragazzi freschi di laurea o in procinto di laurearsi con un background molto simile in questo caso ovviamente con una specializzazione un po' più verticale sul mondo finanziario quindi il background principale di riferimento economia e finanza management e finanza o ingegneria gestionale a curriculum finanziario in questo caso il periodo formativo in aula durerà 3 e non 2 settimane il periodo è quello dall'8 al 26 di luglio la sede anche in questo caso è la sede di Milano come timeline prevediamo poi sempre dopo lo stacco estivo anche in questo caso un paio di mesi di pianificazione a progetto a cavallo tra i primi di settembre e i primi di novembre con l'obiettivo appunto di inserire con l'indeterminato a partire appunto dal giorno immediatamente successivo alla chiusura dell'academy i contenuti anche in questo caso dell'aula formativa riflettono molto le tematiche progettuali di cui parlava prima appunto Giovanna che sono le principali del gruppo quindi andremo ad affrontare tematiche relative alla corporate governance per gli intermediari finanziari approfondiremo le strategie le politiche controlli del credito ci occuperemo di temi di internal audit compliance antiriciclaggio e nell'ultima settimana andremo ad approfondire l'integrazione tra i processi del credito e i nuovi rischi emergenti in particolar modo legati al mondo della sostenibilità e quindi al mondo ISG anche in questo caso le modalità di inserimento sono identiche quindi quattro mesi di stage durante l'academy a copertura sia del periodo formativo in aula sia del periodo dei training on the job successivo con l'obiettivo ovviamente di confermare ragazzi a contratto indeterminato successivamente abbiamo lasciato qui tra l'altro il QR code che potete inquadrare per planare direttamente sulle job description insomma di entrambe le iniziative dove potete trovare riassunti insomma per iscritto quello che abbiamo iniziato a raccontare insomma verbalmente fino a questo momento direi insomma Giuseppe di lasciare spazio ai ragazzi per qualche domanda assolutamente sì tra l'altro grazie Marco perché i link relativi a quei QR code li ho inseriti qui in chat così magari se qualcuno è da è da smartphone trova più comodo cliccare invece chiede a PC liberissimo di aprire un'altra pagina sul browser oppure di scansionare i QR code allora sono arrivate sono arrivate un po' di domande e allora facciamo così ragazzi forse è anche più comodo farvi farvi aprire il il microfono e quindi venera aspetta che ti avevo ti ho trovato ti ho perso adesso perché ho visto che hai inserito due domande e allora vai vai pure tu grazie non so se mi sentite sì sì ti sentiamo ciao io ho fatto una bella esperienza in Romania di tre anni lavorando nel controllo interno a livello manageriale di tutta la era la zecca dello Stato che la zecca dello Stato rumeno che riguardava solo la creazione dei passaporti elettronici e alcune alcuni documenti sensibili come i visti o documenti tipo diplomi e altro non sono mai riuscita a trovare qui per esempio in Italia un tale ruolo dove poter continuare il mio il mio lavoro nel controllo interno ho visto la zecca dello Stato italiana ma non ho trovato altre società partecipate dove poter applicare per questo ruolo e mi interessava se questa era la legislazione che vigeva sul controllo interno italiano so che è una direttiva europea e il framework deve essere sempre intorno a questo se era questo decreto legislativo 231 del 2001 286 del 99 grazie allora Venera io posso rispondere per quanto riguarda l'ambito relativo al financial services allora i decreti legislativi che tu indichi trovano applicazione anche anche al mondo financial services quindi servizi di investimento in particolar modo il decreto legislativo 231 come ho detto prima serve a definire un framework di controlli e tutta una serie di scambi di flussi informativi e attività di formazione interna degli intermediari finanziari al fine di prevenire tutta una serie di reati sul settore finanziario la 286 diciamo non trova applicazione sul mondo del financial services perché è la 285 che è un regolamento di Banca d'Italia che invece definisce tutto il framework dei controlli interni che trovano applicazione appunto nell'ambito principalmente del contesto bancario perché se poi estendiamo il perimetro a quello che è il settore dell'asset well management il framework dei controlli interni viene definito alternativamente a seconda diciamo dei settori di competenza o da Banca d'Italia o da Consob così come nell'ambito del settore della previdenza complementare questo framework dei controlli interni viene disciplinato nell'ambito dei regolamenti della Covip mentre per il settore assicurativo il riferimento sono i regolamenti di un'altra autorità di vigilanza italiana che si chiama IVAS quello che tu diciamo indichi come diciamo ambito dei controlli interni per quello che la realtà italiana è più diciamo è un framework dei controlli che esula dal mondo dei servizi finanziari ma che attiene più a diciamo a quello che è il framework dei controlli della della pubblica amministrazione italiana che tu ritrovi non so ad esempio all'interno delle attività che vengono svolte dai ministeri piuttosto che dalle partecipate pubbliche e quindi probabilmente se il tuo settore di appartenenza è quello cioè quello del public sector del financial services dovresti per quanto riguarda quantomeno la realtà italiana orientarti verso appunto il settore pubblico non quello dei servizi di investimento perché all'interno dei servizi di investimento ecco la regolamentazione è quella che contribuisce a regolamentare appunto le realtà che operano diciamo rispetto ai servizi finanziari e quindi sono le assicurazioni sono le banche sono le SGR sono le società di intermediazione immobiliare sono questi soggetti qui non so se sono riuscita a dire correttamente la tua domanda sì poi l'altra domanda era se si può utilizzare anche una piattaforma come AgilePoint questa era la domanda per Margherita sì in generale le piattaforme che sono utilizzabili sono tutte quelle che di fatto sono sul mercato quindi la risposta è sì e non solo nel senso noi abbiamo citato Wipad perché è il leader di mercato di quelli che sono i servizi di RPA però ci sono molte altre piattaforme che utilizziamo ad esempio Blue Prisma Automation Anywhere quello che facciamo è lasciare la scelta al cliente noi siamo laici rispetto al vendor offriamo servizi che appunto abbracciano differenti vendor da questo punto di vista non ci crea diciamo alcun problema tra i servizi che offriamo spesso in quelle che sono le attività di avvio di progetti del tipo di quelli che ho descritto ci sono anche attività di software selection quindi attività che aiutano proprio il nostro cliente a scegliere quello che è il software migliore per le sue esigenze nel senso che chiaramente tutti i vendor poi di fatto offrono prodotti di qualità alcuni si adattano più o meno a seconda di quelle che sono le esigenze del cliente quindi diamo anche questa tipologia di servizio di scelta iniziale del software grazie a te grazie allora Vittorio chiede se le opportunità sono in sede oppure da remoto Marco sì allora durante il periodo di formazione sì prevediamo la presenza chiaramente per le due tre settimane formative su Milano faremo per andare ancora più nel dettaglio in realtà faremo la formazione in parte in sede quindi in torre City Life in parte nel nostro training center che è dedicato appunto all'attività di learning e per quanto riguarda invece le modalità di lavoro classiche durante appunto il training on the job in genere durante l'attività lavorativa da policy aziendale abbiamo una modalità hybrid quindi fondamentalmente un paio di giorni minimi a settimana in ufficio con smart working garantito fino al 60% sbazio settimanale quindi fino a tre giorni a settimana è chiaro che in fase di formazione di induction di inserimento all'interno dei team noi consigliamo vivamente insomma una presenza il più possibile estesa insomma nel primo periodo nelle prime settimane quanto meno di inserimento fermo restando appunto come vi dicevo che l'equilibrio è un 2 più 3 comunque da policy ottimo grazie e poi Thomas allora vediamo Thomas ti attivo prova ad attivarti l'audio si puoi leggere direttamente tu la la domanda che hai scritto sempre se riesci ad attivare l'audio si sentite eccoci sì ok buongiorno no volevo sapere visto che ho letto che il corso di Accademia Risk comincia il 15 luglio qual è la mia data di laurea volevo sapere se è possibile in caso giustificare l'assenza del primo giorno e se è possibile appunto candidarsi sì sì Thomas figurati c'è su assenze minime sporadiche anche durante la parte di formazione non ci sono problemi quindi assolutamente se sei interessato se pensi che il tuo profilo sia in linea non esistare a candidarti ci sentiamo poi nei prossimi giorni per un primo colloquio non ti fare problemi ok grazie figurati allora vediamo Riccardo avevi una domanda giusto mi sembra di sì ho visto la mano usata salve a tutti ciao ho una domanda sul profilo Accademia Risk Governance Process e Controls perché comunque lega l'economia con l'aspetto in particolare finanziario quindi vorrei capire se anche se il mio programma di laurea che ho finito a marzo o comunque delle materie legate all'ambito finanziario quindi management economics quindi è importante in questo profilo non essendo comunque il mio mazzo totalmente in finanza più sul business capire se va bene come profilo anche legato tra economia e finanza anche senza avere il titolo di finanza comunque come materie di studio legate comunque alla finanza sì allora tieni conto che appunto Riccardo queste iniziative di academy che hanno una fase di formazione iniziale rispetto magari agli stage classici tradizionali che prevedono l'inserimento diretto sono appunto volti a cercare in qualche modo di coinvolgere anche ragazzi che non abbiano per forza un background perfettamente in linea con i profili standard che noi inseriamo tramite processo appunto standard di selezione sicuramente quello che chiediamo in generale su entrambe le academy è un background che abbia un taglio comunque economico legato al management o di profilo gestionale meglio chiaramente su un gruppo che si occupa di gestione dei rischi finanziari sistemi di controllo interno sul mondo finanziario avere quantomeno un'infarinatura su tematiche finance anche perché come hai notato tu stesso l'orientamento è molto anche normativo regolamentare quindi più ne sai di finanza meglio è però non è non è per forza vincolante o stringentissimo insomma come vincolo Giovanna stessa diceva anche prima che il background poi i ragazzi che inseriamo è abbastanza variegato ci sono anche profili appunto giurisprudenziali proprio per il taglio normativo dell'attività ok ottimo allora Mattia e poi Beatrice sì allora innanzitutto la mia era una domanda se eventualmente mi sentite innanzitutto ok se eventualmente è possibile candidarsi entrambe le posizioni che sarebbero interessante io ho una laurea magistrale in economia dei mercati e degli intermediari finanziari che vero magari un po' attinente a tutte e due quindi se innanzitutto questa è una cosa possibile fare entrambe le application o se è controproducente da un punto di vista e la seconda domanda è perché non mi è bichiarato sulla fase di selezione cioè praticamente il momento in cui l'8 luglio mi sembra inizia l'academy in quel caso parte già lo stage l'8 luglio o parte in un secondo momento sì allora rispondo in ordine inverso cioè allora lo stage copre anche il periodo di formazione iniziale questo vuol dire che dal primo giorno di formazione quindi dall'8 luglio comunque l'inserimento è in tirocino in stage quindi sì la risposta è sì copre anche il periodo di formazione quindi sono poi quattro mesi di stage a partire dal primo giorno di formazione in aula per quanto riguarda l'interesse per entrambe le posizioni no non è controproducente chiaramente applicare per entrambe tenendo conto ovviamente che poi in ogni caso si andrebbe a fare una scelta o da parte tua o da parte nostra nella fase di selezione sull'orientamento sull'una o sull'altra iniziativa e quindi sull'inserimento poi nell'una o nell'altra aula ti dico con il tuo background di economia intermediari finanziari sicuramente a prima vista l'academy risk sul mondo finance quindi del GPC è un po' più in linea con il tuo background anche perché nel risk private noi operiamo prevalentemente non esclusivamente però prevalentemente con clienti del mondo industriale quindi tutto ciò che non è legato ai servizi finanziari però appunto anche in questo caso il vincolo non è stringente per cui eventualmente candidati insomma entrambe le posizioni poi in fase di colloquio andiamo insomma a capire su quale delle due orientarci grazie grazie a te e chiudiamo con la domanda di Beatrice ciao Beatrice buongiorno buon pomeriggio a tutti io avrei delle domande riguardo i miei studi che ho fatto ovviamente la domanda era essendo che sono stati fatti all'estero se hanno comunque una valenza per voi o se li dovessi fare riconoscere a livello italiano dico no nel senso tieni conto che abbiamo tante volte in selezione ragazzi che hanno studiato esclusivamente all'estero per cui non è assolutamente necessario alcun tipo di trasformazione insomma alcun tipo di accreditamento italiano diciamo da questo punto di vista per cui l'importante è la coerenza ovviamente del percorso di studi rispetto ai requisiti insomma che ricerchiamo nei profili che vorremmo andare a inserire su entrambe le academy però il fatto che abbia studiato all'estero non è assolutamente vincolante anzi ti direi è un plus in molti casi rispetto magari a un percorso di studi prettamente esclusivamente italiano sicuramente esperienza all'estero in generale in un contesto come il nostro ma direi ormai un po' ovunque nel mondo del lavoro italiano sono ben accette anzi non dico che sono richieste ma sono sicuramente ben accette perché io praticamente avrei una laurea triennale in international business management e con un MSC che praticamente a livello inglese è la laurea magistrale in banking and finance quindi in teoria io dovrei andare sull'academy risk private giusto? sull'academy risk gpnc quindi quella di orientamento finanziario sì sull'altra sì sull'altra quindi academy risk governance and processes and controls esatto sì comunque ti confermo che il fatto che abbia studiato all'estero non è assolutamente un limite anzi ok poi volevo anche chiedere una una cortesia se potevate mettere la slide precedente che facevo una foto per quanto riguarda i tempi così l'avevo in memoria ok perfetto grazie a te Beatrice facciamo così Giovanni diamo rapidissimi da te prima di chiudere sì una domanda proprio rapidissima allora io al momento non sono ancora laureato sono ancora un po' distante dalla laurea prevista che dovrebbe essere per febbraio 2025 è comunque una laurea triennale ed è un ibrido tra economia e diritto quindi praticamente solo giurisprudenza ed economia insieme volevo sapere se ci fossero delle opportunità in futuro di questo tipo magari anche più legata al mio ambito di studio visto che ci sono appunto ricercate anche figure in ambito giurisprudenziale non sono ben accette sì assolutamente te lo confermo tieni conto che questa iniziativa di Academy è già stata proposta in passato quindi è un format che abbiamo già sviluppato realizzato anche con successo altrimenti non l'avremmo ripetuto per cui sicuramente ciclicamente nel corso dell'anno le andremo a riproporre ora non abbiamo ancora definito il planning per il nuovo fiscalier che è quello che parte poi da inizio luglio prossimo nel senso che faremo queste due iniziative a partire da luglio 25 però per il resto il fiscalier ancora non abbiamo definito eventualmente la possibilità di riorganizzarne altre ti posso però anticipare che visto appunto il successo comunque del format sicuramente le andremo a riproporre nel corso di quest'anno e probabilmente anche di successivi per cui si tratta poi di monitorare la nostra pagina carirse insomma e verificare la presenza o meno delle job indipendentemente comunque dalle academy sicuramente si può applicare per un qualsiasi tipo di inserimento standard in tirocino tutti i nostri stage al di là appunto dell'academy ribadisco sono finalizzati all'assunzione per cui a seconda anche del tuo periodo storico diciamo così sei più o meno vicino alla conclusione degli studi quando ti senti pronto a valutare un inserimento full time nel mondo del lavoro tieni d'occhio le posizioni che possono essere per te interessanti e si tratta di mandare l'application anzi questo tipo di iniziative ti garantisce la possibilità vi garantisce la possibilità di avere visibilità dirette qualche contatto diretto con noi che lavoriamo direttamente in azienda per cui tramite LinkedIn insomma se preferite anche un contatto diretto fate pure riferimento a me ovviamente potete scrivere e quando vi sentite insomma pronti e valutiamo poi insieme le varie opportunità che sono aperte nel periodo storico in cui ci sentiamo grazie mille grazie a te allora direi che con la domanda di ah c'è una domanda super in extremis quella di Mattia forse si scusate no volevo aggiungere una domanda che mi viene in mente allora io ho 25 anni e ho lavorato l'ultimo anno in BNL diciamo un ruolo completamente diverso da quello che andrà a fare un problema cioè ho lavorato diciamo come consulenza verso clienti insomma classica della banca in un modello direct di BNL so che questo è tutt'altro ambito ma è proprio quello che io vorrei fare infatti non lo dico perché ho smesso di lavorare lì è controproducente a livello di CV cioè il lavoro progresso mentre studiavo su un ambito un po' diverso dato che questa diciamo è una consulenza poi verso verso istituti finanziari e non verso clientele retail no non è controproducente nel senso anzi le iniziative di academy proprio per il format dell'iniziativa teoricamente sarebbero rivolte a laureandi o neolaureati magistrali proprio per andare in continuità con l'esperienza universitaria e accorciare la distanza che c'è molto spesso tra la formazione universitaria e quella poi l'attività operativa effettiva lavorativa nel momento in cui si entra nel mondo del lavoro però il fatto di aver già maturato esperienza chiaramente purché non sia eccessiva a livello di durata su un'altra posizione su un altro ruolo un altro contesto non è uno showstopper cioè sostanzialmente non è vincolante in maniera negativa la possibilità di concorrere all'inserimento all'interno dell'aula è chiaro che devi essere disposto in qualche modo lato tuo ad abbandonare magari un contesto un ambiente lavorativo che già conosci in cui hai già maturato esperienza per ricominciare non dico da zero però per ricominciare da capo su altri temi in un altro contesto e su altre tipologie ovviamente di lavori e di progetti quindi la risposta è no non è vincolante però sicuramente deve esserci anche la giusta predisposizione da parte tua per abbandonare magari un contesto su cui hai maturato esperienza su cui hai maturato competenze per metterti in gioco insomma su qualcosa di diverso no sì sì il mio intento è proprio quello in realtà cioè nel senso proprio già lasciato quel lavoro cioè a ripartire da uno stage piuttosto che da una era il parecchio più alta però per cambiare proprio fronte cioè perché a 25 anni penso di essere ancora in tempo diciamo per per switchare su su un qualcosa che mi interessa di più sì sì assolutamente assolutamente l'unica cosa appunto che ti dico ma ti do anche come così ma devo dire che sento già dalle tue parole che è così è che chiaramente trattandosi un ambito diverso non teori tendenzialmente noi su ragazzi che comunque anche se hanno già maturato esperienza lavorativa su altri temi nel momento in cui si approcciano a tematiche differenti e non hanno esperienza su quell'ambito si tratta appunto di ricominciare non magari direttamente con un'assunzione a contratto però questo tipo di iniziative volgono appunto in questa direzione cioè un inserimento un po' più soft con anche una parte di formazione iniziale in tirocino finalizzato ovviamente poi all'assunzione col tempo indeterminato in sostanza ok lavoro per me non sarebbe un problema va bene ti ringrazio grazie a te grazie a te Mattia Marco prima di salutarti Pier Giorgio chiede se puoi tornare alla slide con i tempi i temi per l'Academy Risk Private ok perfetto così Pier Giorgio puoi fare puoi fare uno screenshot e Marco Margherita Giovanna io vi ringrazio per il tempo per il vostro tempo che non è mai banale mai scontato ci ha fatto piacere condividere con i ragazzi un po' del vostro pane quotidiano mi piace definirlo così grazie mille a voi grazie grazie a voi grazie a tutti e in bocca al lupo grazie a tutti grazie a tutti ciao buona giornata grazie a tutti grazie a tutti